Il libro ha voluto alleggerire la parola così impegnativa a disputa aggiungendo dintorni per dare. Il libro in effetti poi si divide in due parti, perché una parte sono gli intorni e una parte più propriamente è il Santo Benedetto. Allora, nei dintorni si parla della di quello che è oggi l'atteggiamento delle gerarchie cattoliche e di quella che si chiama in termini di diritto internazionale la Santa Sede, che è uno Stato. È uno Stato come tanti altri, ha un osservatore alle Nazioni Unite, ha i diplomatici sparsi nel mondo, ha un esercito simbolico, una moneta, una bandiera, un territorio, insomma ha tutte le caratteristiche di uno Stato ed è che si chiama la Santa Sede, la quale poi esercita la sua giurisdizione su un territorio che si chiama Vaticano e tutto insieme questo poi emana una entità immateriale che si chiama Chiesa, Ecclesia, cioè comunità. Ecco, di questa complessa anche dal punto di vista giuridico-struttura, il professor Mancuso ed io veniamo a parlare nella prima parte, esprimendo, come ha anticipato la dottoressa Benedetti, dei punti di vista che spesso, insomma, qualche più di qualche volta collimano, sono analoghi, nel senso che a entrambi pare, soprattutto a me, adesso parlo per me stesso, a entrambi pare che spesso nell'atteggiamento delle gerarchie e per esempio io per andare proprio sul terreno concreto, voi avete qui a Firenze un arcivescopo che si chiama Vettori, ex segretario della conferenza episcopale, il quale si è vestito più di una volta per atteggiamenti molto, diciamo, conservatori, per capirci con un aggettivo solo, molto di retroguardia, molto diversi da quelli che a parere di molti, per esempio a parere di un altro grande ecclesiastico, di un altro sacerdote, prete, cardinale come il cardinal Martini, sarebbero auspicabili da parte di una gerarchia che si richiama all'insegnamento del Vangelo, all'insegnamento di Gesù e dunque a una cosa che possiamo indicare in termini generali come amore o caritas, più che come giudizio o come imposizione, questa è per quanto riguarda la parte, poi dopo possiamo, volevo solo enunciare qual era il terreno sul quale ci siamo, abbiamo discorso e poi dopo vediamo il resto. Adesso qualcuno vuole dire qualche cosa?